Per il Festival dello Sviluppo Sostenibile anche il Dipartimento di Geoscienze insieme al Centro Levicases hanno tenuto una conferenza che in qualche modo era espressione dell'attività che l'Università sta facendo nell'ambito delle energie rinnovabili ed in particolare della geotermia che è una delle astri nascenti delle soluzioni che possono in qualche modo aiutare soprattutto in area urbana dove il problema climatico si fa sempre più pressante può dare un contributo importante per quello che riguarda la sostenibilità in termini di riduzione delle emissioni e miglioramento della qualità dell'aria. Con il sistema geotermico è possibile fare due cose, la prima è evitare le emissioni e la seconda è evitare tutti i rumori esterni e anche l'estetica di un edificio. È molto adatta per questi motivi all'utilizzo in ambito urbano e soprattutto nei centri storici dove ci sono molti vincoli dal punto di vista dell'estetica. L'Università di Padova sta dando un contributo importante anche al Comune di Padova per il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissato in un suo progetto di raggiungere la neutralità climatica, quindi le emissioni zero, al 2030. L'Università ha un impatto importante per quello che riguarda anche l'aspetto edificatorio e quindi stiamo cercando soluzioni geotermiche che possono sostituire i sistemi idrocarburi, quindi gas, per quello che riguarda la climatizzazione dei propri edifici. Quindi tutto quello che si sta studiando in questo periodo è proprio trovare le soluzioni migliori, al costo migliore e ad impatto più basso possibile per quello che riguarda l'utilizzo per la climatizzazione negli edifici dell'energia di cui si ha bisogno.